Tra le tante beffe che ci ha donato il Covid c'è il paradosso della neve. Nell'anno in cui le montagne sono stracariche, gli impianti sciistici sono chiusi. Ovviamente per la tutela della salute si fa di tutto, eppure è innegabile che in termini economici e turistici il danno sia gravissimo. La riapertura degli impianti più volte annunciata è stata sempre rimandata. Ora ci si avvicina all'ultima fatidica data, il 15 febbraio. I gestori ci sperano e la loro speranza è alimentata dall'approvazione definitiva delle linee guida avvenuta in Commissione Turismo e Industria Alberghiera, che ieri si è riunita con la Commissione Prevenzione Covid della Conferenza Stato-Regioni. Ieri col tavolo tecnico di tutte le regioni, più del tavolo tecnico Covid, abbiamo approvato finalmente le linee guida che permetteranno di approvare le regole per poter sciare il 15 febbraio. Questa è la data prevista nel DPCM, purtroppo è una data che ha avuto già successivi rinvii, perché prima era il 7 gennaio, poi il 18 gennaio, adesso il 15 febbraio. Noi come regione abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, abbiamo messo tanto lavoro a disposizione della conferenza che oggi la preverà e le manderà al Governo, sperando che quindi il Governo ci dia l'ok per tornare a sciare il 15 febbraio. Faccio presente che le misure Covid per lo sci veramente sono diventate quasi un'enciclopedia in cui tutto è previsto e tutto è contingentato. Adesso in un minuto spiegare tutte le norme tecniche. Comunque c'è un contingentamento al 50% per quanto riguarda le seggiovie, al 50% per quanto riguarda le cabinovie, l'obbligo di distanziamento, l'obbligo di contingentare il numero delle persone che possono sciare preventivamente con l'acquisto online dei biglietti. Per cui una volta contingentato il numero massimo di ski pass vendibili non sarà più possibile acquistare e quindi è inutile che la gente si rega sulle piste d'asci sapendo già che non può sciare. Questo è sicuramente un metodo importante per contingentare le presenze anche a valle di chi vorrebbe sciare però non ha la possibilità e quindi... In sostanza si scierà con la pre vendita, diciamo così per semplificare? Molto probabilmente, sicuramente uno dei metodi è questo. vendere gli ski pass online il giorno prima e chi non ha la possibilità di acquistare lo ski pass è inutile che vada a sembrarsi in montagna.